segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te cosa perché sorridi perché non pretendevo del draghi tanta autocritica nel senso che se c'è un paese dove l'intervista i ministri le fanno con le domande prima e non c'è un contraddittorio è proprio questo che proprio perché è libero fa sorridere che lui l'abbia detto se toglievi la parola lavrov sembrava che parlasse dell'intervista di speranza durante il covid buonasera c'era tutto il paese chiuso in casa le aziende schiuse i bar chiusi buonasera cosa ne pensa del covid allora che in questo paese i servizi segreti si occupino di giornalismo è una cosa di una gravità estrema per la ragione che ha detto draghi che siamo un paese dove in teoria l'articolo 21 della costituzione direbbe che siamo in teoria un paese ancora libero un collega che fa un'intervista al ministro degli esteri di un paese che ha dichiarato guerra invaso l'ucraina durante la guerra in ucraina ma credo che in qualunque posto del mondo dove la libertà di stampa non è solo un gioco di parole dovrebbe essere applaudito il contenuto dell'intervista cioè le risposte di lavrov non devono portare il paese a fare quello che facciamo sempre cioè quando un giornale denuncia uno scandalo non si guarda lo scandalo si guarda perché l'ha denunciato chi l'ha denunciato cioè lui ci ha mostrato per la prima volta in europa un ministro che tra l'altro abbiamo sentito sproloquiare per ore in conferenze stampa che hanno inondato le televisioni in turchia in russia dire qualunque cosa ha fatto la prima intervista con delle domande poi possiamo discutere delle domande io non lo faccio sono un giornalista perché se discute di quelle discute di una miriade di interviste fatte in questo paese negli ultimi anni che fanno venire il voltastromaco abbiamo assistito a qualunque sceneggiata non può pensare tutto allora invece a me che cosa cosa mi ha colpito a me mi ha colpito questo signore no questa intervista ci ha dato modo di vedere la mutazione profonda che un uomo che questo paese aveva conosciuto come un migliatore come una colomba come il volto buono del putinismo con cui abbiamo intessuto 15 anni di rapporti commerciali politici economici che ha cenato pranzato e telefonato con tutti i ministri i presidenti del consiglio gli ultimi 15 anni si sia trasformato in un folle che dice delle cose aberranti su cui noi dobbiamo certo non al contenuto non al contenitore la cosa che mi colpisce molto tra l'altro è che ormai le cose indicibili si dicono cioè rimettere in pista i discussioni su hit che per noi erano non discussioni non discussioni questa parte sconversata dalla storia sciocchezze ma questo fa parte di un meccanismo che noi però dobbiamo comprendere bene quando un paese l'italia come tanti altri paesi d'europa vive un momento di disagio vive un momento dove molte persone stanno male dove il mondo che hanno intorno non lo riconoscono più la tendenza a credere a ciò che fa cambiare questo mondo che come la magia lo trasforma in qualcosa di bello e naturale ed è in questi momenti che noi dobbiamo distinguere l'obbligo il dovere di informare di intervistare liberamente chi si vuole e il contenuto di ciò che sentiamo su cui certo l'indignazione si deve spostare noi ce la stiamo prendendo con brindisi che ha fatto uno scoop europeo invece che dire al paese che un signore che conoscevamo bene non lo riconosciamo più che dice delle nefandezze delle cose abberranti che possono colpire l'immaginario di chi oggi si sente in pericolo e più debole questo dobbiamo dire noi non prendercela con rete 4 fermiamoci un momento grazie